Io ho qualcosa che cambierà tutto quanto. Ho sentito delle storie, racconti di grandi città e di montagne di oro e argento. Ecco perché dovremo andare ad Ovest. Ti ho detto che non ci sono terre ad Occidente. Non possiamo navigare nell'oceano. Credo che ci sia un modo. Questo è un uomo che non crede nelle nostre antiche tradizioni. E cosa fa un uomo? Un uomo comandi. Questa non è la fine, è solo l'inizio. Questa non è la fine. Grazie a tutti.